Sì, per me la musica fa parte della mia vita veramente, mi ha dato tante possibilità anche conoscere vari personaggi musicisti, molti bravi, ho collaborato tanto con tanti artisti diversi. Soprattutto la mia musica usa per sensibilizzare, per dare valore anche a le nostre culture, le nostre tradizioni e ogni tanto dare anche il valore dei nostri paesi. Questi strumenti, tutti gli strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, tipo questi balafon, la kora, baradundu, tamani. Sì, ho lavorato tanto con i teatri, con i festival, le feste private. I matrimoni, il lavoro con questi. Ho fatto musica terapia con disabili, ho lavorato nelle scuole a spiegare i nostri strumenti musicali, le nostre culture, a fare collaborazione musicale, laboratori, soprattutto per dare il valore delle nostre culture, anche una cosa molto importante. Durante che fa esibizioni, spiega l'origine delle nostre musica, dove esci fuori, fa vedere strumenti, fa provarli, curiosità. Sì, ho girato tutti in Italia, ho girato tutti in Italia, grazie alla musica. Sì, sono poli strumentista, suono vari strumenti tradizionali dell'Africa occidentale, tipo balafoncora, ancora tamani, baradundu, eccetera. Il baradundu, questo baradundu è molto anziano come strumento da noi, in Mali. e compagnie sempre il balafon, con questo baradundu, che è fatto sempre con la zucca. Come ho detto, la zucca è molto importante da noi, usiamo per tante tante cose diverse. Grazie a tutti.